Boys and girls, buonasera, bentornati in questo nuovo video, buongiorno, oggi ragazzi andiamo a fare un video sulle tattiche, andiamo a parlare delle tattiche, andiamo a parlare del modulo, ho cambiato qualcosina Non vi ho più provato video sui moduli perché avevo utilizzato sempre gli stessi quelli del vecchio video, oggi vi parlo del nuovo modulo che grosso modo è molto simile a quello di prima a livello di tattiche e istruzioni Però vi dico anche qualcosa su come è cambiato il gioco perché effettivamente, ahimè, è cambiato da inizio anno Prima però un paio di cose da dirvi, la prima raga, che tantissimi state scrivendo in live, ve l'ho già spiegato anche su Instagram eccetera Il coaching partirà verso metà dicembre, avrà ovviamente un costo, vi darò tutte le info su Instagram più avanti, non adesso Avrà un costo ridotto per i sub su Twitch e un costo non ridotto per chi non è sub su Twitch, allora e sarà prevalentemente lunedì, martedì e mercoledì credo che sono i giorni un po' più morti Però, ripeto, devo ancora studiarmi bene anche perché ci sono un botto di richieste, però vi spiegherò tutto su Instagram Seconda cosa, sempre su Instagram, raga, domani io partirò per Milano, cioè oggi in verità quando voi state vedendo il video, come sapete sempre il tempo è meraviglioso Sarò a Milano per il torneo, il primo torneo ufficiale che è sabato, cioè domani, sempre per voi e tra due giorni per me E poi, oltre a questo, ragazzi, ci sarà un mega evento Adidas dove vi ho spiegato già qualcosina, dove potete vedere già alcuni dei partecipanti Che saremo io, Hollywood, Ribera, Rekings, Pizz, Piazza, ci sarà Nitro di Macete, ci sarà il DJ di Nitro, ci saranno altri componenti di Macete Forse anche qualche calciatore e anche altri content creator, come ad esempio potrebbe essere un Power Troverete tutte le info perché ci sono tante, tante attività e contenuti per voi da casa, ovviamente, causa coronavirus Già adesso, se andate nelle storie e trovate lo swipe up, potete, iscrivendovi al sito Adidas Non è proprio il sito Adidas, il sito Adidas dedicato a Exide, dedicato al gaming Potete già ottenere uno sconto, ad esempio, del 25% Oltre a avere la possibilità poi di giocare con e con noi Perché appunto ci saranno tornei, ci saranno partite con voi, partite contro di voi Ci saranno talk show, ci saranno podcast, ci sarà un po' di tutto Con tutti questi personaggi, quindi non era molto molto figa Io starò via fino al 9 di dicembre, 8-9 di dicembre YouTube comunque continuerà, così come Twitch Però cambieranno magari un po' gli orari, ci saranno qualche video in meno Perché ovviamente sarò molto impegnato a fare tutta questa serie di attività E non solo, perché avremo anche altre cose di cui non posso ancora spoilerare da fare con Adidas Però tramite Instagram ovviamente vi aggiornerò con tutto Gli orari dei live, gli orari dei video, eccetera, eccetera, eccetera Per il momento, appunto, la prima cosa per voi, raga, c'è lo swipe up Per ottenere uno sconto su sito Adidas del 25% Che buttalo via in sti tempi, soprattutto Dico niente male Quindi trovate tutto su Instagram E anche lì vi aggiornerò poi per il resto Detto questo, raga, prima di parlare dei moduli Andiamo a parlare di quello che è uscito su FIFA oggi Il Pre-Black Friday È uscito il Best Team of the Week Quindi alcune carte come Rashford, Walker Non tantissime, in verità Nel Best Team of the Week Che trovate su Twitter Io onestamente però, visto che è un video che poi magari non so quanti ne farò In questo periodo Sicuramente, ripeto, non si fermeranno ai video Però magari mancherò qualche volta di più Perché appunto sarò impegnato Vi faccio vedere il Team of the Week anche Che è sul Twitter della EA Sports È uscito questo Deurofeo che andiamo a vedere Queste tre icon che poi andiamo a parlare E questo è il Best Team of the Week Che potete trovare negli aggiornamenti Team of the Week attuali Nei pacchi della Weekend League dei tre IFE E nei pacchi normali Oltre al Team of the Week di questa settimana Quindi non ci sono solo questi magari Ci sono questi 4, 3, 7, 4, 11 Più quelli della settimana corrente Quindi Cristiano, eccetera, eccetera, eccetera Questi sono gli IF, raga Del Best Team of the Week Domani poi appunto ci sarà il Black Friday Perché oggi è partito il Pre-Black Friday Non vi so dire sui prezzi come sempre perché non me ne intendo Però oltre a questo, raga Usciranno secondo me un sacco di SBC magari carine, si spera Non uscirà nessuna squadra Perché solitamente non c'è la squadra Black Friday come per i Rot to the Final Come per i Toti, eccetera, eccetera, eccetera Però SBC molto carine potrebbero uscire Ripeto, prezzi, raga, non vi so aiutare Sono una scimmia glamorosa Allora, parliamo del primo Deulofeu Che è una carta, secondo me, stra-interessante Che io credo che quando tornerò Visto che dura tipo 5 settimane Mi sbloccherò Perché la stamina è carente Dura un po' da fare Bisogna fare 15 partite minimo Schierando i giocatori della Serie A Poi i soliti gol, i soliti assist Da fare in amichevoli Food Live Però c'ha delle stats Interessantissime sotto il punto di vista del dribbling Oltre che avere Un tiro e una velocità Molto, molto valida Adesso vi faccio vedere la carta E anche un 4-4 Con i War Crit perfetti Quindi, secondo me, ne vale veramente la pena Ed è sicuramente Una carta che in Serie A Secondo me non può mancare Quest'anno, tra l'altro, la Serie A Stanno uscendo un botto di carte Meno male, raga Esterno-sinistro 4-4 Alto-basso Questo lo usavo su FIFA 17 Quando giocavo ancora in Praver, mi ricordo Come sempre, la reattività non è eccezionale, raga Di queste carte Alla Kent, eccetera Sempre il valore un po' così-così Però guardate tolta la stamina Velocità top Finalizzazione 83 Che ci può stare Potenza tiro 85 Fredezza 82 Passaggio corto ottimo Effetto ottimo Lungo un po' meno Però ci può stare per un esterno Agilità 99 Equilibrio 90 Poi reattività 80 Che non è il top Controllo palla 90 Dribbling 93 Quindi, davvero una carta molto, molto interessante Che secondo me potrebbe avere la palla Bella incolata al piede Come piace a me Stile intesa consigliato Finalizzatore Ovviamente anche stravalido da sub Però, secondo me, ci sta anche un botto da titolare Nelle vostre serie A Ripeto, io cercherò assolutamente di sbloccarlo C'è anche il tratto classe Che lo rende Il tratto classe è un po' come Messi, no? Quei giocatori lì che hanno la palla appunto Molto incolata al piede Che riescono a dribblare bene Eccetera, eccetera, eccetera Quindi potrebbe essere un bel giocatore da fascia Può fare anche, secondo me, la punta di un attacco a due Il COC Insomma, eviterai di metterlo Però sono quei giocatori che possono giocare un po' ovunque Le icone, invece, prima di andare a parlare dei moduli Eccetera Le icone non ve le consiglio, raga Meno male che non buttate fuori altri tre Perché vorrà dire che Quelle decenti Non arriveranno fra troppo Però Sia Verkamp Che tra l'altro la versione Medium Se non ricordo male Verón Versione Medium E Hernandez la baby Raga Non posso consigliarvi nessuna delle tre E sprecate un sacco di carte Come sempre dico Se proprio volete Fatevele in prestito Le provate magari con i vostri amici L'amichevole, eccetera O nelle Rivals Non in Weekend League Però Sono tre carte Non mi sento di consigliare Verón Voi dite Ma ha le stats Mezze carine Sì Ma questo in game Poi non rende mai Soprattutto per l'agilità che ha Quindi lasciate perdere Perché è un cristiano Di 1,86 Con normale normale Quindi un work Appunto un po' balordo Una velocità non eccezionale L'agilità e l'equilibrio Molto scadenti Per il resto Come vedete Voi direte Eh però passa bene la palla Quelle stats difensive le ha L'aggressività ce l'ha Sì Io l'ho trovato contro in questi anni Per carità Il suo lo fa anche Però andare a mettere Un sacco di carte Sette sfide Un 84 Un 81 con un if Un 84 con un if Un 85 Un 86 con un if Per questo Verón Non ne vale la pena Perché prendete un Kanté Prendete un Pogbarul Breaker Che appena volete Lo fate volare Non ne vale la pena Io vi dico Se li sbloccate Per Hernández Ci vuole Cacciatore Per Verón ci vuole Ombra Per il buon Verkamp Ci vuole Cacciatore Però sono carte Che non ne vale veramente la pena Anche qua Verkamp Addirittura il Prime Moments Io l'ho provato gli anni scorsi Purtroppo non rende tantissimo Rende più di questo Questo ha 76 di equilibrio 84 di agilità E un metro 83 Stamina scadente Velocità scadente Il tiro è eccezionale Però non ne vale la pena Cioè qualità prezzo Pensando anche A quante carte usciranno Non ne vale la pena Stesso discorso Hernández Forse è stato il Prime Vi diceva Vabbè sulla fascia Ci può stare Di un attacco a 2 Spammare i filtranti Ma questo Il Baby Che ha 78 di resistenza 64 di forza Passaggi scabrosi Fredezza scabrosa Equilibrio Scabroso Reattività Controllo palla Scabrosi Raga Lasciate perdere Cioè queste 3 icon Per me sono 0 carbonella Quindi lasciate Assolutamente perdere Perché poi vi Bloccate delle carte Che magari un giorno Escono le belle icon Perché usciranno Le belle icon Esce un son pot Di nuovo Piuttosto fatevi son E dite cazzo Non ho le carte Non ho i crediti Per farle E avete quei giocatori Non scambiabili Quindi non consigliate Passiamo ai moduli Ragazzi I moduli Allora FIFA è cambiato È cambiato Perché anche quest'anno Sono uscite 50 patch Anche perché quest'anno Secondo me Si sta tornando Verso una difesa Sempre più forte E questo mi dispiace Molto Perché dopo la patch Sull'elastico Arriverà la patch Sui doppi passi Perché sul pc Può già confermare Io sono d'accordo Sul nerfare i doppi passi Perché veramente Sembrava di giocare A doppi passi FIFA 21 Sembrava le crocchette Di FIFA 19 Però ci stanno togliendo Ogni Ogni Metro di più Il modo per attaccare Perché Perché togli l'elastico Togli il doppio passo Però Non togli gli autoblock Non togli la CPU in area Il gioco Torna a essere Melina all'infinito Cercando un buco Squadre tutte Barregate dietro Qualche skill La puoi ancora fare Ma sempre di meno Quindi non sono Sicuramente soddisfatto Della patch Che sta per arrivare In parte Perché gli autoblock Anche in teoria Sono stati nerfati Ma chi ha giocato Mi ha detto Che sono praticamente Identici Quindi raga Staremo a vedere E purtroppo Ripeto Si è andati più Di nuovo verso un gioco Sulla difesa Secondo me Però così è E quello che ci danno Purtroppo dobbiamo giocare Raga Allora Le tattiche come vedete Sono equilibrate Equilibrate 5455 Classicissime Due angoli Il modulo Il 442 Con i cc Che cos'è la differenza Quello con i cdc È uguale Ma i cdc Non i cc I cc Hanno lo stesso ruolo Dei mediani Io li chiamo mediani Perché appunto Giocano comunque Davanti alla difesa La differenza È che sono un po' più alti Sono appunto cc Quindi vi danno una mano In più davanti A discapito Di una mano indietro Perché li troverete Più fuori posizione Quindi io cosa vi dico Sia questo Sia il 442 Con i cdc Che io ho messo Per difendere Quindi quando sono magari In fase difensiva Qua devo mettere 5-5 Non so perché c'era 6 E 3 agli angoli Sono due moduli validi Magari partite col 442 Con i cc E poi se dovete difendere Passate a quello con i cdc Che appunto Avrete una mano in meno davanti Però siete un po' più piazzati dietro Perché con questo modulo qua Occhio Se perdete palla C'è il rischio veramente Di venire Presi in contropiede Perché io preferisco Questo ultimamente Al 422 Perché nel 422 I giocatori erano più stretti E adesso appunto Soprattutto a livello competitivo Dove bisogna allargare le squadre Quindi andare in fascia In modo da allargare la difesa Come io dico sempre Passare all'esterno Poi tornare all'interno Eccetera Col 442 viene meglio Perché riesce a giocare Di più in fascia Riesce a sfruttare di più le fasce Però il 422 E il 431 Sono sempre moduli validi Io fatico molto A giocare con una punta La FIFA 19 Finito FIFA 19 Che usavo il 431 E basta Dall'anno scorso Forse proprio per come è il gioco Sento il bisogno di avere Magari due punte davanti Però Amando comunque i COC E il ruolo dei COC Che cosa faccio? Metto rientrare in difesa Animar Senza mettere gli inserisciti Alle spalle In modo Animar Abbia una sorta di Ruolo da COC Come vi dicevo già Nel 422 E torni un pelo indietro Quando recupero la palla Per avere appunto Una sorta di COC Con Ronaldo punta Invece inserisciti Alle spalle E rimani davanti Volendo raga Si può mettere anche magari Un Fai salire la squadra Che anche lì potrebbe voler dire Che Neymar Stampo più indietro Ma io mi sono sempre trovato Con rientra in difesa Quindi metto rientra in difesa Poi raga Ricordatevi Cioè io uso così Ma puoi mettere anche Inserisciti alle spalle Neymar Sto ancora testando Quindi sto cercando Un attimo di capire E poi se avete una punta Magari di peso Come un Lukaku Eccetera Ci può stare a mettere Rimani centrale Io il fenomeno Lo lascio base Perché almeno può svariare Un po' E darmi magari passaggio In partite toste Che non troverai Altrimenti Se lui rimanesse sempre centrale Agli esterni che cosa metto Agli esterni metto Solo a entrenare per il cross Ho provato Inserisciti alle spalle Raga Nelle istruzioni Dove sono qua Inserimenti di supporto Però mi scappavano troppo Soprattutto con quelli Bravi a pressare Notavo che gli esterni Tendevano sempre a scappare E quindi facevo fatica Perché mi mancava un passaggio Già mancando il C.O.C. Praticamente Perché Neymar Comunque dopo che tieni un po' Palla Va avanti Non è che sta dietro in difesa Faticavo molto Quindi preferisco lasciarli base Non ho provato Ancora taglia dentro Che potrebbe essere interessante Però anche qua Testate sempre E poi se vi piace Avere gli esterni Sempre larghi Un bel gioco largo Per far sì che Gli esterni Occupino solo La zona larga E vi aprono bene le squadre Però mi trovo abbastanza bene così Mediani Classico Resta dietro in attacco Copertura al centro Arenato Che è un giocatore Che adesso vi faccio vedere Io adoro Mi ha fatto Balanghe di gol Uso a entrenare per il cross Che non è Un supporto equilibrato Perché Quando tu metti Supporto equilibrato Metti avanza Sale molto di più Con entra in ara per il cross Sale Però non si butta sempre Proprio dentro l'ara Quindi rimane un po' più al limite Vi assicuro che Con giocatori come Renato Come Pogba Come Zidane Come Valverde Insomma Tutti i giocatori che vi ho spiegato Nella top 10 Dei CC e CDC Quelli che definisco io Completi Che difendono Attaccano Che attaccano bene Anche un paulino Può essere una buona soluzione Sappiate anche qua Che se mettete a entrenare Per il cross Avrete sempre Uno dei due mediani Un pochino più avanti Quindi c'è il rischio Che magari Rimanete un po' più scoperti Se volete stare tranquilli E farli salire Un po' più voi a mano Mettete Inserimento per il cross Equilibrato E siete tranquilli Che resti dietro E basta Poi ai terzini Resta dietro In attacco classico E queste sono Le istruzioni E il modulo Che sto utilizzando Per il 4-4-2 Con i cdc Se mi chiedete Raga La stessa identica roba Per chi chiede Bamba Ne ho parlato In un altro video Sissoko Vi dico poca roba Non vale secondo me La spesa Io lo vendrò Per prendere virà Sto aspettando La partita del tot E non anche gioca breve Non vale quella spesa Al momento Gomez Ne ho parlato a lungo Nel video Dei top 10 Dei dc Dall'icona baby Che mi segue su instagram Lo sa Ho trovato il nigno torres Che purtroppo raga Ve lo giuro O lo fate tirare Se no è veramente Imbarazzante Io non mi aspettavo Un campione Ma sono un grande fan Mi aspettavo di meglio Purtroppo raga Veramente scabroso Il nigno Detto questo ragazzi Come sempre Vi ringrazio Vi ricordo appunto Che i video continueranno Anche da Milano Cambierà magari un po' la frequenza Cambierà qualche data di uscita In base a come sarò messo Mi ragionerò Tutto su instagram Vi ricordo che su instagram Appunto trovate già Gli swipe up Per iscrivervi al sito adios Per avere gli sconti E per partecipare alle giornate Che Avremo Il 3 Il 4 Il 5 Mi pare che sia Di dicembre Il 3 fifa Il 4 fornite Il quinto mista Con vari talk show Podcast Faremo un po' di amongas Magari un po' di cod Faremo un po' di tutto Quindi Speriamo bene raga Speriamo di divertirvi Speriamo di Farvi passare un po' di tempo In questa quarantena Io vi ringrazio come sempre Ci vediamo al prossimo video Grazie ancora per i 35.000 iscritti Ma vi ho già ringraziato su instagram E ci vediamo presto raga